la valutazione dei progetti, proponendo una graduatoria finale alla fine del mese di giugno 2015. Attualmente si è in attesa della pubblicazione ufficiale dei vincitori da parte del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca. Infine, avendo riguardo la richiesta dell'interpellante in ordine all'avvio di un procedimento disciplinare a carico del Direttore Pro Tempori del Lunar, si tratta di un provvedimento ancora in corso, che perciò non può evidentemente formare oggetto allo Stato di alcuna informazione nel merito. La ringrazio l'On. Burda. Facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie. Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, abbiamo sentito il dovere di intervenire in quello che è diventato ormai il paradosso del Lunar, che per normativa europea è compito intervenire su tutti i casi di razzismo e discriminazione nel nostro Paese. Io rispetto quanto lei ha sottolineato relativamente alla indipendenza nel momento in cui un organismo, un governo, provvede a un provvedimento disciplinare come quello che di fatto ha esautorato il Direttore dell'Ufficio stesso, al di là delle osservazioni inviate in Europa, osservazioni poi recepite, io penso che ci sia il problema, che il problema dell'indipendenza sia tuttora presente. E questa vicenda, tutta questa vicenda, noi a questo punto non potremmo non fare a meno anche di segnalarla agli organismi europei deputati appunto a questo tipo di sorveglianza. Perché è un vero paradosso che il Governo, anziché censurare i discorsi di odio, razzisti e xenofobi, pronunciati in questo caso dalla parlamentare dell'estrema destra, abbia aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Direttore dell'Una. Direttore che ad oggi risulta pagato dalla Presidenza ma senza incarico. Diciamo con chiarezza che solo per questo ufficio e non per altri in scadenza è stato pubblicato un interpello, un interpello ancora aperto. Dal giorno di quelle contestazioni ad oggi l'Ufficio è stato fortemente depotenziato, ribadiamo. È privato di una direzione, di 15 unità di personale esperto. Le sue risposte non sono state soddisfacenti rispetto al rischio della perdita dei finanziamenti europei su cui si faceva affidamento per l'attuazione del piano antirazzismo e della strategia Rom. Siamo convinti che dietro a questo paradosso, del quale chiediamo, non so ormai chiedere, però invitiamo a una riflessione ancora, una riflessione di coerenza al Governo, noi chiediamo che dietro questo paradosso si cieli un ennesimo compromesso, un altro dietro front sul piano della questione LGBT. Si veda, tra l'altro, l'ennesimo rinvio sulle unioni civili. Proprio sulla strategia il direttore è stato più volte messo al centro di polemiche, anche qui per aver svolto il suo e il proprio dovere, diventando così di fatto un direttore scomodo, come ha scritto, ad esempio, Chiara Saraceno dalle prime pagine di Repubblica, Quotidiano Nazionale, con grande chiarezza nello scorso mese di settembre. Ne costituiscono riprova, non solo le reazioni forti di tutte le associazioni LGBT e non riusciamo a capire perché il Governo voglia scontrarsi con queste associazioni. Forti reazioni sul caso, ma anche per il fatto che il Governo non abbia rinnovato la strategia, non avendo mai risposto all'invito del Consiglio d'Europa e non abbia di fatto ancora pubblicato l'atteso portale LGBT. A noi pare evidente che il Governo stia abbandonando sostanzialmente un altro piccolo tassello, ma importante, della tutela dei diritti e persone più deboli e vulnerabili, lasciando oggi l'una in balia delle opposizioni, razziste e omofore. Speriamo di sbagliarci, ma i segnali che vediamo vanno tutti in questo senso. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza urgente. 2.114 dei deputati Sorial ed altri concernente chiarimenti ed iniziative in ordine alla questione dei tempi e del completamento dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Onorevole Castelli, ha facoltà di intervenire per illustrare la propria interpellanza. Sì, grazie Presidente. Questa interpellanza riguarda il fatto che ancora una volta bisogna dire e dirsi che la ragione di quasi, se non tutti i mali, continua a essere il patto di stabilità. Continua a essere la vostra non chiara posizione sul patto di stabilità e su quello che genera e vacca.